Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio fare un video un po' particolare. L'ho già fatto in inglese settimana scorsa e oggi voglio farlo in italiano per spiegarvi che cosa ho fatto sul mio canale. Ho aperto gli abbonamenti, ci ho ragionato per circa un anno, un anno fa avevo mandato la richiesta di poterli aprire, me l'avevano accettata subito, però ho detto non lo so, non so se aprirli, non so se farlo eccetera, ma adesso mi servono soldi, devo trasferirmi, devo andare via e quindi ovviamente il mio lavoro sta andando come sta andando, ho vari progetti, varie cose, però dato che tante persone hanno iniziato a richiedermelo su Instagram, mi hanno chiesto Marco ma se io voglio supportare il tuo viaggio, il tuo percorso, dove vado? Su Patreon, vado su Linktree, perché anche su Linktree e Patreon ho la possibilità di poter essere supportato, però ho detto ma scusate, cioè perché devo mandare uno su Patreon, uno su Linktree, uno qua, uno là eccetera, almeno su YouTube è fatto bene, è un servizio fatto apposta, è qualcosa che non devo continuare a rivisitare eccetera, perché è già qualcosa che faccio ed è qualcosa per cui poi potete avere dei benefici anche voi, quindi alla fine ho detto ma sì, lo apro su YouTube, in caso poi se proprio vedo che è qualcosa che non mi piace lo tolgo, non mi piace l'idea di monetizzare la mia audience, ma questo in realtà mi hanno fatto capire anche dei miei colleghi che non è monetizzare, non è vendervi qualcosa, ma è semplicemente un modo per alcuni di voi che hanno voglia di supportarmi, di aiutarmi nel mio percorso, di aiutarmi nel mio viaggio, perché ovviamente più riesco ad essere libero finanziariamente da YouTube, dai contenuti online che faccio eccetera, grazie a quello che guadagno, e più riesco a dedicarmi a questo al 100%, quindi fare video migliori, fare video più dedicati, fare anche interazioni più personali con voi, fare live, fare chat, quindi è qualcosa a cui dedicherei più tempo, però è anche qualcosa che mi può aiutare nel mio percorso verso il successo, sia dal mio punto di vista di social, ma anche dal mio punto di vista di carriera comunque in generale. Quindi ragazzi, vi metto in premessa, mi fa tantissimo piacere se qualcuno mi aiuta, però non è qualcosa di assolutamente obbligatorio, se voi mi aiutate o non mi aiutate non c'è uno migliore, uno peggiore, è semplicemente una cosa vostra che fa piacere tantissimo a me e mi supporta, ma non ce l'ho con nessuno se non mi aiutate, non ce l'ho, non preferisco qualcun altro se mi aiuta, quindi non sentitevi assolutamente in dovere di farlo, se è qualcosa che fate per piacere, allora ne sono contentissimo e sarò contento anche di essere più in interazione con voi grazie al supporto che mi date. Ho diviso in 5 livelli quanto potete supportarmi economicamente e anche che cosa ottenete dunque anche in cambio. Ho messo il livello 1 da 1,99€ al momento, mentre faccio questo video, poi ovviamente possono anche cambiare nel tempo queste cose, quindi in caso farò un altro video, qui ottenete dei badge e fedeltà, quindi se avete già il primo tier, già nel momento in cui commentate o quando faccio delle live e mettete delle commentate nella chat, già vedete che siete diversi da tutti gli altri che commentano perché avete dei badge e fedeltà, la possibilità dunque di supportarmi, accesso a live chat riservate per i membri, quindi tutti i membri, tutti gli abbonati avranno delle chat riservate con me, soprattutto durante le live, e sarete i primi a cui risponderò ai commenti, dato che i commenti iniziano ad essere tanti, inizierò soprattutto, c'è il filtro su YouTube, inizierò a rispondere prima a tutti i commenti di persone che sono abbonati e dopo cercherò di rispondere a tutti gli altri. Livello 2, quindi 4,99€, tutti i vantaggi dei livelli precedenti e in più delle live riservate a queste persone qua, quindi farò delle live che per chi è almeno a questo secondo livello sarà un po' come riunirsi in un salotto e chiacchierare tutti insieme, quindi potete chiedermi qualsiasi cosa di personale, non personale, chiedere consigli, quindi è un po' un potere interagire con me molto più personale. Livello 3, 9,99€, tutti i vantaggi precedenti, più video esclusivi, e qua ovviamente cercherò di far uscire video che magari saranno molto diversi dai video che faccio normalmente sul mio canale, qualcosa che voi mi potete anche chiedere. Quindi ad esempio se io vedo, non so, che una persona che è a livello 3 mi chiede, oppure durante una delle live o durante la chat eccetera, mi scrivete Marco io sono un tuo abbonato, mi piacerebbe che parlassi di questi profumi, che parlassi di questo argomento, di questi libri, di questa cosa tua, allora io vi faccio un video a parte, semplicemente in cui parlo di quella cosa, anche per 5, 10, un'ora, per quanto volete, per quanti minuti volete, io vi parlo di quell'argomento lì, quindi video riservati agli abbonati. Oltre a tutte le cose precedenti, quindi i page, il supportarmi, le live, live riservate, la chat e così via, e anche i commenti prioritari. E poi livello 4 e 5 li ho messi per le persone che vogliono semplicemente supportarmi da un punto di vista economico e quindi hanno l'intenzione o la voglia di supportarmi, io ho messo livello 4 49,99€, sono tutti i vantaggi precedenti e in più anche un ringraziamento personale nei video, alla fine dei video, all'inizio del video, ringrazierò sempre tutte queste persone che mi interranno dal livello 4 in su, e è un huge support for my journey, quindi qualcosa di incredibile per il mio percorso, e poi avrete accesso a tutti i miei video, o la maggior parte dei miei video, prima di tutti gli altri. Quindi non potevo semplicemente mettere, ok, mi aiutate molto di più, ma hai anche qualcosina in più, quindi l'accesso prima degli altri in premier ha i miei video, e in più questo grazie da parte mia e la mia, insomma, gratitudine. A livello 5, invece l'ultimo, è per le persone che hanno voglia veramente di aiutarmi in grande, sono 99,99€, tutti i vantaggi precedenti, quindi beige fedeltà, live, video riservati, commenti prioritari, video esclusivi, ringraziamento nei video e accesso prima di tutti gli altri e così via, e in più io ho messo connect with me, ho messo connettersi con me. Vuol dire che ragazzi, io probabilmente farò un gruppo Discord o WhatsApp o Telegram di queste persone che mi supportano, ma potrei farla anche semplicemente già dal livello 3, comunque in questo caso poi lo aggiungerò, e farò questo gruppo in cui potete rimanere connessi con me e chiedermi qualsiasi cosa, essere dunque parte di questa community. Un po' una cerchia privata. Ed ecco qua ragazzi, vi ho detto, non sentitevi obbligati, è qualcosa che se fate per piacere e per aiutarmi molto volentieri, non voglio farvi spendere soldi, non voglio, se non potete, permettereveli, non voglio farvi star male se vorreste ma non potete, quindi state tranquilli ragazzi, se non potete, nessun problema, se potete e volete aiutarmi, allora ne sarei molto molto grato. Spero che il video vi sia piaciuto, io ho aperto questa possibilità di poter, di voi avere più contenuti, e me, di poter lavorare molto di più su YouTube, quindi avere questa più libertà di potermi concentrare sui contenuti anche per voi, di essere dunque anche più finanziariamente stabile, in modo che posso portarvi contenuti migliori a girare, invece che stare sempre qui a peschiera nella mia camera a fare video, quindi spero che vi possa anche fare piacere a voi. Lasciate un commento che cosa ne pensate, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi e grazie ancora.